Non si ricandida al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, ma come consigliere in una lista del sindaco che esprima con forza l'amore verso Matera. C'è un nome nella visione di futuro del primo cittadino per dare continuità al lavoro fatto in termini di cultura e turismo. Un identikit che giunge dagli operatori del turismo, quindi una persona di competenza, è una donna ed è una materana doc. Parliamo dell'assessore al ramo, Marianna Di Mona. Io ritengo che nella giunta comunale ci sia un'imprenditrice turistica, sia una signora donna che si chiama Marianna Di Mona e che soprattutto è una materana doc perché discende dalla famiglia di Domenico Ridola. Quindi ritengo che sia la persona che è già entrata in questo canale di programmazione e di progettazione finalizzata a rafforzare il ruolo del turismo di Matera che non è, come qualcuno pensava oggi, un turismo di prossimità ma è un turismo che ancora una volta richiama visitatori del nord Italia e dell'estero. Rispetto al tema PD l'auspicio del sindaco è che la proposta delineata nel solco della continuità possa essere elemento catalizzatore e non divisivo. Il sindaco ha inoltre elencato le ultime novità importanti. Intanto il progetto novennale che vedrebbe l'apertura dell'ISIA, Istituto Superiore Industria Artistica a Matera, città individuata come vertice su cui dovrebbe ruotare tutto il mezzogiorno per il design industriale. In giunta invece approvate due delibere. Il rinnovo dei contratti dei dipendenti licenziati a marzo scorso che resteranno fino al 31 dicembre e la messa in campo di 2 milioni e mezzo di euro per i luoghi del silenzio.